Lei è qui per il sindaco Moratti? Sì, siamo qua per festeggiare insieme. È venuta di proposito? Per caso? No. È qui per la festa della Moratti? Sì, sì, sì. Ma lei abita qui in zona o è venuta di proposito? Abito qua, abito qua. Sono qua perché abito qua vicino. Abitate qui vicini? Sì. Quindi venite qui spesso? Sì. E ha avuto modo di sentire il discorso di Berlusconi ieri al Palasciar? No, io non ho avuto modo di sentirlo. Non ho guardato, non ho visto, no. No, mi spiace, ma sabato e domenica sto con i bambini e lascio stare la politica che ha già schifato abbastanza. No, ho guardato qualcosa sul web. Che cosa le hai parso? Bene, al solito. Lui a me è troppo simpatico, mi piace tantissimo. Perciò qualunque cosa dice per me mi piace, non so. Mi sembrava che lui fosse molto in forma, che ci fossero molte persone ad acclamarlo. Mi sembrava bene, insomma. Mi sembra che molte persone se ne siano andate. Secondo lei è il segno di un allentamento della presa della PIL di Berlusconi sulla gente? No, questa è una sciocchezza che dite voi. Non è per niente vero. Nel senso? Nel senso che non è niente vero, è una sua teoria.